Oggi seminiamo il basilico. Il segreto rimane senza dubbio il terriccio. Io riciclo la terra dei vasi dello scorso anno. Il trucco però è l'aggiunta di cenere. E gusci di uovo, che conservo invece di buttare via. E semi della pianta che ho gelosamente conservato. Verso la terra vecchia in contenitore. Sbriciolo. Aggiungo un pugno di cenere. Mescolo. E verso in vaso, eliminando residui grandi. Spezzetto i gusci di uovo. Verso nel terriccio. Mescolo. Aggiungo i semi di basilico tanto quanto basta. Ricopro con un piccolo strato di terriccio preparato prima. Innaffio con abbondante acqua. E ripongo i vasi in luogo soleggiato, avendo cura di innaffiare ogni due giorni nel periodo pre-estate. Il risultato? Eccolo! Dopo circa due mesi. E' un piccolo strato di terriccio preparato prima. Di tutto ciò che si riuscat수로 aprirvi il pied